Ciao a tutti cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, quello che vedremo oggi sono le energie disponibili per voi single per il mese di giugno. Vi ricordo che queste letture possono essere integrative dell'oroscopo sull'amore e gli affetti che uscirà più avanti. Iniziamo subito con il segno del cancro. Come dico sempre ragazzi le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Poi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida. Vi spiega proprio come mettere insieme più oroscopi, vi spiega come trovare l'ascendente, vi spiega le linee di tempo. Insomma è un video interessante. C'è anche poi un video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere per gli amici del cancro. iniziamo con un 5 di bastoni, un 2 di bastoni. Interessante perché il 5 di bastoni parla sempre di energie contrastanti, devo dire. Ragazzi, 5 di bastoni, 2 di bastoni, asso di bastoni, ruote della fortuna, luna e cavaliere di spade. Devo dire che ho come la sensazione che ci siano più pretendenti nel mese di giugno, che siate un pochettino, come dire, combattuti, perché poi abbiamo anche un 2 di bastoni, che è una carta di indecisione, è una carta che vi parla di qualcuno che non sa bene da che parte andare, se rimanere lì dov'è, oppure se andare avanti per nuove avventure, nuovi percorsi. È un po' come se da un lato voleste rimanere come siete, perché probabilmente avete la vostra zona di comfort, di sicurezza, e dall'altro lato vorreste sperimentare cose nuove. Ma vi dico che con questo asso di bastoni ci sarà un'iniziativa, ci sarà un incontro, l'asso di bastoni è normalmente proprio un incontro di tipo intimo, che con questa ruota della fortuna, ragazzi, cambierà quello che sono le dinamiche di inizio mese, direi. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Andiamo a vedere per gli amici del cancro il 5 di bastoni. Abbiamo la carta della giustizia e un 10 di bastoni. Qui è come se ci dovesse, se fosse necessario un taglio su quello che sono le responsabilità o le aspettative degli altri. Il 5 di bastoni potrebbe rappresentare dei conflitti interni a questo punto, ragazzi, su che cosa è quello che volete voi, cos'è quello che vogliono gli altri. E avendo anche la carta della giustizia è come se ci fosse qualche cosa da dover regolarizzare, da dover mettere in ordine. Tenete presente che la carta della giustizia è anche una carta che ha una spada, di conseguenza può essere necessario dover tagliare qualche cosa, e qui parlo di pesi e responsabilità, per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia, per stare meglio con voi stessi anche. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un fante di coppe al contrario. E un 2 di coppe. Sì, io credo che siate combattuti sul se iniziare una relazione con questo fante di coppe potrebbe essere. Andiamo avanti, perché ho come la sensazione che qui qualcuno non si esponga, considerato che il fante di coppe è al contrario. In qualche caso, ragazzi, vi dico che è come se voi foste in una situazione di attesa, dove è come se, non lo so, nella parte centrale di giugno vi sento un attimo lì, fermi, in attesa di eventuali chiarimenti o di eventuali scuse da parte di qualcuno. C'è una sorta di indecisione qui che vi fa rimanere fermi, diciamo, nella parte centrale di giugno. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Perché comunque c'è un 2 di coppe, c'è anche un 2 di bastoni, nel senso è un po' come se fossi indecisi se iniziare una relazione con qualcuno oppure no. Vi dico, potrebbero esserci diversi pretendenti, eh? Allora, l'asso di bastoni è spiegato dalla morte e dal 7 di coppe. Di nuovo, la morte è una carta che parla di tagli, di tagliare qualche cosa che non serve più, qualche tipo di atteggiamento e vedendo poi anche il 7 di coppe è un po' come se vi dicessero tagliate con le illusioni, con i pensieri illusori. Il 7 di coppe è una carta che parla sì di possibilità, quindi può essere un taglio da fare per quello che riguarda il passato, per aprirsi delle possibilità, ma tenete sempre presente che molte di queste possibilità sono illusorie, quindi c'è da vedere bene. Andiamo avanti, vediamo la ruota della fortuna. Regina di pentacoli e 5 di spade. Voglio vedere anche un attimo la luna, per piacere. 8 di coppe e imperatrice e 9 di bastoni, scusate, 7 di bastoni, al contrario per il cavaliere di spade. Allora, qui si tratterà di prendere in mano le redini della situazione, ragazzi. Questa zona della lettura la vedo proprio come un riprendersi il proprio potere personale, proprio potere femminile. Qui cambia qualche cosa nel vostro modo di porvi all'altra persona. È come se ci fosse appunto un taglio da fare sull'attitudine, come vi dicevo già forse un po' prima, sul, ok, che cosa si aspettano gli altri? Va bene, questo è, ma non è roba mia, quindi lo lascia indietro. È come un dire, ok, questo è quello di cui ho bisogno io, io sono così, mi conosco, ho questo tipo di paure. L'altra persona mi dà o non mi dà sicurezze? Perché il 5 di spade è sempre una carta di conflitti mentali. È come se ci fosse un cambio con questa ruota della fortuna, che parla di chiusura cicli e inizio nuovi cicli. È come se ci fosse l'inizio di un nuovo ciclo di introspezione, che vi darà la possibilità di essere più determinati nei confronti degli altri. È un po' come se vi dicessero anche di essere più madri. Uomini o donne che siate, si tratta di amore, compassione, perdono, accettazione, tutte queste cose, sono come da lavorare un po' di più nella parte finale di giugno. Perché è come se vi desse la possibilità, questo cambio di attitudine, di curare voi stessi e di conseguenza di porvi in modo diverso nei confronti degli altri. Vi dico, c'è questo cavaliere di spade alla fine di giugno, anche se secondo me conoscerete un'altra persona prima. Adesso dipende poi dal caso, però è come se ad un certo punto vi mostraste per quello che realmente siete. Giustamente, se affrontate questo percorso di autoconoscenza con la luna e l'otto di coppe, che sono carte che vi rimandano un po' alle vostre paure, e dove prenderete potere di queste paure, cioè guardo la paura, mi rendo conto che ho questa paura, e non mi blocco, ne tengo semplicemente conto e la metto lì in un angolo, la metto lì da parte, so che c'è, è presente, e punto, e vado avanti nella mia strada, vado avanti con determinazione, cercando di non farmi bloccare da quello che è la paura di cui ci parla la luna. Tenete presente che con i set di coppe e anche la carta della luna, ci potrebbero essere delle proiezioni da lavorare, quindi che cosa è per voi l'amore come l'altro? Guardate, vi dico questo perché, vedendo l'asso di bastoni, e questo lo capiranno molto bene le persone che si sono abbonate al canale e hanno visto i video, però ci sono delle persone che pensano che quando qualcuno mostri attenzione per loro, siano innamorate. Il fatto di avere rapporti intimi con qualcun altro fa loro pensare che questo qualcun altro si è innamorato. Ecco, questa è una proiezione, ok? Perché ci sono molte persone che si danno all'altro senza essere coinvolte a livello di cuore. Quindi attenzione alle eventuali proiezioni. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo per terminare la lettura. Ok. Sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Quindi, il fatto che voi proviate della passione, del trasporto, del sentimento, c'è un due di coppe anche, è valido, cioè se provate qualche cosa è giusto dare il giusto valore a questo sentimento. Parentesi. Non solo i sentimenti positivi e romantici, ma è giusto anche dare il giusto peso alle paure. Perché avete paura? Da dove arriva quella paura? Perché si è sviluppata in voi quella paura? A causa di che traumi, di che momenti di vita? E, wow, luna di miele. Godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Quindi, ragazzi, se si tratta di un momento dove magari farete un viaggio, qui avete l'otto di coppe, quindi per qualcuno sì che è possibile un viaggio di breve distanza. Però è un po' come se vi dicessero di nutrirvi di quelli che sono i momenti che riuscirete a passare insieme. I momenti felici, diciamo. Perché poi comunque non vi nego che con questo 5 di spade ci potrebbero anche essere dei conflitti. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare all'energia del prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante, ve lo dico sempre. Di fatto ringrazio anche tutte le persone che continuano a sostenere il canale. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dello scorpione. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di pioroscopi, vi spiega come trovare l'ascendente, vi spiega le linee di tempo. Insomma è un video interessante. Trovate anche sempre nella descrizione sotto un video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow ragazzi, cominciamo con un 3 di spade, la carta della forza, il carro e il fante di bastoni. Devo dire che c'è qualcosa che vi attanaglia a inizio mese. Quando c'è il 3 di spade si parla di una ferita ancora aperta, di una sofferenza della mente in realtà. Probabilmente siete un po' intrappolati in qualche tipo di pensiero o di situazione che vi crea dolore. Fate attenzione perché molte volte è semplicemente l'ego che ci fa soffrire. Cioè il fatto di puntare ad un obiettivo perché pensiamo che grazie a quell'obiettivo staremmo meglio, saremmo riconosciuti, saremmo felici, insomma, quello che è. E poi quando non si raggiunge quell'obiettivo, considerato che per la natura umana è abbastanza facile identificarsi con l'obiettivo, nel momento in cui non si raggiunge questo crea un disagio, una tristezza, una sofferenza realmente. Abbiamo però poi anche la carta della forza e il 7, scusate, e il carro. Qui verso metà giugno ci sarà un viaggio, un movimento, uno spostamento, una scelta anche per qualcuno, o un cambio di direzione che vi porterà verso questo fante di bastoni. Quindi devo dire che, passato un attimo il periodo iniziale, le cose vanno decisamente meglio. Andiamo a vedere, carta per carta, andiamo a vedere il 3 di spade. Asso di coppe e regina di bastoni. Allora qui vi fa soffrire, direi, il fatto che avete un sentimento per qualcuno, ma è come se questo qualcuno o non è chiaro, o non è presente, o non è presente come voi vorreste, insomma. Datemi un'altra carta per la regina di bastoni. Ok, può essere che questa persona non vi veda, o che questa persona abbia i suoi tempi, diciamo così. Andiamo a vedere la forza. 8 di bastoni e la carta della morte. Ragazzi, a metà giugno ci sarà un atto, mi verrebbe da dire, di coraggio. Avevo anche il matto girato. Un atto di coraggio, un impulso, un movimento. Perché con la carta della forza è sempre una scelta che viene effettuata con successo. È una scelta fatta per il vostro più alto bene. E qui vedo la scelta con la carta della morte. C'è qualcuno che lascerà indietro qualche cosa. Si farà una comunicazione, perché lotto di bastoni sono notizie che arrivano. Novità, cambi, veloci e repentini. E difatti abbiamo una carta di fine, una carta di inizio ciclo. Vi dico che può anche essere che ci sia una comunicazione improvvisa da parte di una persona per molti nuova. che vi darà, come dire, una sorta di impulso vitale nuovo. Potrebbe proprio nascere una bella avventura con questa persona. Andiamo a vedere il carro. Due di pentacoli. Cinque di coppe e papà al contrario. Ragazzi, questa decisione, questo movimento o questo viaggio per qualcuno potrebbe essere qualche cosa... Allora, ho com'è la sensazione che se deciderete di andare da un lato comunque vi pentirete perché avete lasciato stare l'altro lato. Cioè, qualsiasi decisione voi prendiate sarà comunque, diciamo così, impegnativo perché comunque una delle due opzioni la dovete lasciare indietro. e vi dico così perché comunque questa carta potrebbe far riferimento alla regina di bastoni che vi dico potrebbe essere uno di quegli amori impossibili dove magari voi vedete una persona ma questa persona non vi vede. Verso metà giugno ci potrebbe essere un nuovo incontro una nuova comunicazione un nuovo contatto proprio che potrebbe dare inizio a questa nuova avventura e ad un certo punto è come se vi trovasse a dover scegliere se la regina di bastoni o il matto. Il punto è che qui qualsiasi tipo di scelta voi farete e comunque non vi nego che con questo 5 di coppe ci sarà una sensazione abbastanza di... di perdita perché il 5 di coppe normalmente è la perdita di un'occasione è una perdita affettiva anche, no? Voglio un'altra carta per questo Papa però si è come se ad un certo punto non vi importasse più di quello che dicono gli altri siete voi che riuscirete tipo a vedere le cose da un altro punto di vista di conseguenza sarete meno condizionati di quello che dicono gli altri o da quello che dice il vostro ego nella vostra testa andiamo a vedere il fante di bastoni perché ho come la sensazione che questa persona potrebbe essere più giovane di voi ed è per questo che vi fate diciamo tra virgolette degli scrupoli su che cosa potrebbero pensare gli altri qui abbiamo un asso di spazio se di coppia un'otto di pentacoli ragazzi qui inizia veramente qualche cosa di direi entusiasmante qualche cosa di avventuroso proprio potrebbero esserci dei viaggi potrebbe essere un viaggio organizzato con questa persona ma io sento che è come se vi ritornasse la voglia di vivere verso la fine del mese come se ci fossero delle comunicazioni delle verità che farete venire a galla e vi dico che la relazione con questa persona potrebbe essere veramente entusiasta dinamica soprattutto vi dico c'è un 6 di coppe quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un'anima gemella però è come se fosse un'anima gemella fuori dalle righe perché l'otto di pentacoli è girato al contrario quindi la quotidianità non è lineare non è statica non è noiosa però anzi con questa carta del matto con il fante di bastoni e il carro sento che potenzialmente è una relazione fuori dal comune giovanile, gioviale, allegra, avventuriera, avventurosa come vi spiego andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli dagli angeli del cuore vediamo cosa vi vogliono dire per concludere la lettura wow dai una possibilità alla tua relazione lavora sulla coppia sì ragazzi guardate che potrebbe tranquillamente essere un 6 di coppe al dritto però è come se in un certo senso ancora non foste consapevoli ripeto quando c'è un 6 di coppe che fa riferimento alle anime gemelle per come per il tipo di studi che ho fatto io per il tipo di realtà che ho diciamo integrato le anime gemelle non sono solo quelle anime romantiche non è l'anima gemella come ce la vendono di solito che è l'anima la persona con cui si starà tutta la vita le anime gemelle sono persone con le quali abbiamo stipulato contratti prima di nascere fanno parte della nostra famiglia di anime e si incontrano qui sulla terra perché ci aiutano a far crescere la nostra anima attraverso le esperienze terrene quindi non è detto che questa persona sia la persona con cui rimarrete tutta la vita per capirci ma è molto facile che questa persona vi aiuti nel vostro percorso evolutivo ok andiamo a vedere l'altro oracolo abbiamo vale la pena aspettare il sincronismo divino e all'opera nella tua vita amorosa wow di fatti avete anche l'appeso ragazzi quello che vi dicono le carte godetevi il viaggio fondamentalmente a giugno ci sarà un periodo direi dinamico con dei tagli dei nuovi inizi delle avventure innamoramenti perché abbiamo anche un asso di coppe godetevi semplicemente questo periodo con giocosità avete il 2 di pentacoli è proprio una carta che vi dice di prendere la vita con filosofia ok e affidatevi e fidatevi dell'universo e di come l'universo sta diciamo tirando i fili amici dello scorpione questo è quello che avevo per voi spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future se è sì potete mettere un like per farmelo sapere potete condividere commentare iscrivervi al canale se volete supportarmi e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale quindi grazie grazie anche di essere rimasti qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenuti anche agli amici del pesci anche per voi andiamo a vedere le energie del prossimo mese come dico sempre ragazzi le letture sono generali sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto voi prendete quello che vi serve e lasciate andare al resto all'universo se non risuona nullo se per caso volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere sotto nella descrizione poi trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi vi spiega come trovare l'ascendente cosa sono le linee di tempo come influiscono le decadi è proprio una guida quindi vi consiglio di ascoltarlo trovate poi anche un video che vi parla di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi ok 3 di bastoni 9 di pentacoli la stella e ruota della fortuna amici dei pesci allora il 3 di bastoni mi parla di viaggi di spostamenti di espansioni di nuove conoscenze di nuove possibilità non so perché ma qualcuno si iscriverà a qualche corso di ballo mi dicono questo nello specifico potrebbero essere balli latini e americani ma non necessariamente però ho come la sensazione che ci sarà da divertirsi in questo mese di giugno per voi se non fosse un corso di ballo è un corso dove c'è musica comunque ok abbiamo poi anche questo bellissimo nove di denari a pagamento amor proprio coccole indipendenza qualcuno che si gode i risultati del proprio lavoro che si gode il risultato del proprio stato di benessere parla proprio di autococcole e qui ho come la sensazione di una spa una spa qualche trattamento di bellezza le terme piuttosto che qualche tipo di percorso qualche corso magari fatti in qualche località turistica una piccola vacanza un viaggetto insomma la prima parte di giugno ragazzi per voi sarà tutto coccole e e benessere diciamo così è scoperta anche e poi cioè arriviamo alla stella e la ruota della fortuna meglio di così non vi può andare la stella è una carta di nuovi obiettivi è una carta di desideri ma è anche una carta di qualcuno che parla di sogni e di legge di manifestazione e poi qui abbiamo la ruota della fortuna quindi è come se qualcuno stesse lavorando su se stesso per portare un cambio interessante andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta andiamo a vedere il 3 di bastoni asso di spade e 6 di pentacoli qui è come se avesse bisogno di prendere distanza da un certo tipo di forma pensiero perché abbiamo l'asso di spade al contrario che indica sempre un po' di confusione mentale probabilmente un po' di confusione mentale su quanto dare a chi dare non è una questione di dare soldi solo proprio una questione di dare energia di dare il nostro tempo di dare le nostre attenzioni c'è possibilità di espansione c'è possibilità di nutrirsi anche perché 6 di pentacoli è una carta che parla di equilibrio di nutrimento, di generosità però è come se voi foste nutriti ma aveste ancora bisogno di imparare per quello che riguarda voi stessi come nutrire quanto nutrire dagli altri quanto darvi quanto aprirvi appunto datemi un'altra carta che questo asso di spade vediamo sì qualcuno è come se avesse bisogno di capire dove mettere i paletti per quello che riguarda le nuove relazioni sento che a inizio giugno si parte già bene diciamo così con dei viaggi con delle conoscenze sono conoscenze che vi nutrono ma è un po' come se non aveste chiaro se voi volete infilarvi in questa conoscenza oppure no andiamo a vedere il nuovo di denari è come se vi togliesse un po' il fiato questa conoscenza ma non nel senso buono come se probabilmente fosse un po' troppo come vi dico presente ok allora wow il 9 di denari è spiegato da un 10 di denari e da un re di spade quindi ecco qui questa conoscenza che si presenta è questo re di spade pare che nella seconda parte o meglio nella parte centrale del mese siate un po' più propensi a stringere accordi con questa persona con questo re di spade come se aveste più chiare le cose di che cosa avete bisogno e come dare come soddisfare i vostri bisogni e anche i bisogni eventualmente all'interno di una direi relazione barra famiglia perché il 10 di pentacoli parla di famiglia allargata andiamo a vedere la stella l'appeso e il quadro di pentacoli andiamo a vedere anche la ruota la fortuna 9 di coppe 8 di coppe e asso di bastoni ragazzi potrebbe che questa persona potrebbe essere appunto questo re di spade vi dico sento viaggi sento festeggiamenti sento cerimonie matrimoni c'è qualche tipo di incontro di scusate di manifestazione diciamo così a giugno che vi porterà o a spostarvi e a conoscere questa persona oppure proprio durante questa manifestazione questo momento di congregazione potrete conoscere questo re di spade vi dico che potrebbe essere la persona che desiderate da tanto ma è come se foste ancora in un punto di vista mentale quindi è come se questa manifestazione questo lavoro di legge di attrazione che state facendo è ancora molto nei piani alti deve ancora scendere nei chakra bassi per concretizzarsi perché siete in una fase di osservazione fondamentalmente diciamo che c'è qualche tipo di atteggiamento probabilmente o di realtà alla quale siete attaccati però vi dico le cose cambieranno guardate che qui c'era un'altra carta le cose cambieranno avete la ruota della fortuna c'è una sorta di appagamento emotivo che arriverete a raggiungere è un 9 avete un 9 anche qui ok si esce da quello che è una situazione un po' di inattività un po' negativa con queste due carte un po' di introspezione è come se si iniziasse a vedere la luce in fondo al tunnel è come se cambiasse qualche cosa ragazzi è come se iniziasse a vedere che con questa persona veramente ci potrebbe essere qualche cosa vi dirò è molto facile che sia una conoscenza diciamo per adesso di tipo platonico per il mese di giugno perché giustamente neanche voi sapete da che parte stare all'inizio però poi vedo questo 9 di pentacoli che è una carta di forte abbondanza mi richiama di nuovo la spa la spa le terme potrebbe anche essere per esempio se avete problemi respiratori e il dottore vi ha consigliato di andare al mare per respirare l'aria con lo iodio ecco anche questo diciamo è una sorta di cura terapeutica perché vedo una sorta di terapia legata a giugno fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti però ecco c'è questa relazione che potrebbe veramente diventare molto appagante anche se solo da un punto di vista diciamo mentale o emotivo non sento ancora che ci potrebbe essere un incontro da un punto di vista fisico andiamo a vedere ok attrazione attrazione attrai amore romantico godendo appieno di questo momento ma che bello abbiamo un nuovo di coppe e poi abbiamo vale la pena aspettare il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa quindi godetevi il percorso godetevi il processo anche se sento appunto che potrebbe rimanere una questione platonica una relazione magari platonica però questa carta vi dice che l'universo sta tirando i fili e quindi voi dovete solo fidarvi e affidarvi appunto all'universo e alle sincronicità cari amici dei pesci questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio le energie del prossimo futuro se sì potete farmelo sapere con un like potete anche iscrivervi commentare condividere lasciare una donazione o abbonarvi se volete supportare il canale di fatto ringrazio tutte le persone che continuano a sostenere il canale e le persone che si sono già abbonate io vi ringrazio anche di essere rimasti fino a qui vi mando un grosso abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao